La Giunta Comunale ha approvato e trasmesso al Consiglio Comunale per la deliberazione finale una proposta di modifica del Regolamento ISEE che introduce delle importanti agevolazioni per le famiglie con più minori iscritti a dei corsi di studio. Sono agevolazioni che consistono in una riduzione della quota fissa delle rette dei servizi gestiti dal Comune di Fano, quindi asilo nido, prefezione scolastica, scuolabus, del 50% per il secondo figlio e del 70% dal terzo figlio. Questo comporterà minori entrate per il Comune di Fano per quasi 100.000 euro, ma riteniamo che sia una scelta doverosa in questo momento di crisi legata al Covid per non fare cadere i costi della crisi sulle famiglie e rendere pienamente fruibili e accessibili a tutti i bambini e a tutte le famiglie i nostri servizi.